C'è un esempio che volevo ricordare. Poc'anzi il presidente Gravina e la guida della Nazionale, Roberto Mancini, mi hanno consegnato la maglia della Nazionale, quella fatta, predisposta per ricordare Gianluca Vialli, che oltre ad essere esemplare come atleta, lo era perché non ho mai dimenticato di essere consapevole di quello che vi è oltre il calcio, oltre lo sport nella vita sociale. Sarà un messaggio importante che manderete in quel momento e precederà questo grande evento che tanti seguiranno. Io non potrò seguirlo, purtroppo, perché ho un impegno altrettanto gradevole, importante. In queste sale domani sera, alla stessa ora, riceverò il presidente della Repubblica dell'Angola. Dopo l'incontro, quando cercò di vedere una sintesi, sono convinto che sarà un incontro di grande valore, anche perché entrambe le squadre hanno dimostrato, non soltanto in questo anno, ma anche in questo ultimo anno, il grande livello atletico e tecnico di cui esprimete. Grazie. Grazie.